La combinazione di tasti Alt più Tab è stata introdotta da Microsoft ai tempi di Windows 3,1 ed è rimasta invariata nel corso di decenni. Premendo Alt più Tab si ottiene la lista delle applicazioni aperte in Windows con un'anteprima del contenuto di ciascuna finestra, almeno nelle versioni più recenti del sistema operativo. Fino all'epoca Windows XP, con la combinazione di tasti Alt più Tab non veniva mostrata l'anteprima delle finestre aperte, non compariva la miniatura del contenuto di ciascuna applicazione, il sistema operativo si limitava a mostrare l'icona del programma aperto e il titolo di ciascuna finestra. Indipendentemente dalla versione di Windows in uso tenendo sempre premuto quindi premendo più volte il tasto si può selezionare una finestra aperta o quelle successive. Rilasciando entrambi i tasti, Windows passerà automaticamente alla visualizzazione della finestra corrispondente alla selezione. Per selezionare le miniature delle app in senso inverso basta premere anche il tasto. Ma non è necessario complicarsi la vita, dopo aver premuto Alt più Tab basta premere le frecce direzionali sulla tastiera, destra-sinistra, su, giù, per spostarsi all'interno della schermata e scegliere la finestra desiderata. Per aprire la schermata che in Windows 10 e Windows 11 permette di passare da una finestra all'altra senza tenere premuto alcun tasto, si può premere, basta insomma aggiungere la pressione del tasto, faccina triste, in questo modo le miniature resteranno a video anche rilasciando tutti e tre i tasti. Nell'esempio in figura la schermata Alt più Tab o CTRL più Alt più Tab che appare in Windows 11. Per chiudere la schermata senza selezionare una finestra aperta basta premere oppure cliccare sull'area di sfondo di colore grigio o all'esterno di essa. Dopo aver utilizzato la combinazione di tasti ci si può comunque spostare tra le miniature usando i tasti freccia. Non solo. Selezionando una finestra che si vuole chiudere, ad esempio con i tasti freccia, e premendo, essa verrà automaticamente chiusa. Un modo sbrigativo per chiudere un programma correntemente in esecuzione senza fare clic sulla X in alto a destra nella sua interfaccia. Windows 10 e 11, le schede aperte in Edge appaiono nella schermata Alt più Tab. Con il rilascio di Windows 10 20 H2 e con Windows 11 gli utenti di Microsoft Edge troveranno nella schermata che appare premendo Alt più Tab riferimenti alle ultime schede aperte nel browser. Al momento la funzionalità viene abilitata di default e non è compatibile con i browser di terze parti come Chrome e Firefox. Premendo Alt più Tab oppure CTRL più Alt più Tab viene mostrata la miniatura di ogni istanza di Edge in esecuzione e sparatamente il contenuto di ciascuna scheda del browser. Per regolare il comportamento della combinazione di tasti, si può scrivere impostazioni multitasking nella casella di ricerca di Windows 10 o di Windows 11 quindi scorrere il contenuto della finestra fino a trovare Alt più Tab. L'opzione Apri le finestre e le 5 schede più recenti in Microsoft Edge comporta la visualizzazione automatica con delle miniature delle schede aperte più di recente nel browser Microsoft. Diversamente, è possibile scegliere di mostrare sempre il contenuto di tutte le schede o di limitarsi a quello delle finestre aperte. Non solo di Edge ma anche delle altre applicazioni. Scegliendo solo finestre aperte si ripristina il comportamento abituale di Windows. Ogni istanza del browser Edge viene trattata come Una finestra a sé stante e tutte le schede aperte vengono ignorate. Nell'immagine seguente come si presenta la finestra multitasking in Windows 11 Passare alla visualizzazione attività e scoprire come si presentava la vecchia schermata Alt più Tab.